precisione soprattutto alla sua conclusione all'interno il tocco, lo scambio chiuso da Afiljans poi Dubkova la tocca per andare a sviluppare la ripartenza Bugeia ha cambiato marcia, Bugeia torna sull'esterno sinistro Bugeia punta l'area di rigore, ci entra, fa quello che vuole poi calcia! Bugeia! Un'altra meraviglia! Quella del 3-0, Alei Bugeia segna il quarto gol in campionato è partita e ha fatto quello che ha voluto, ha puntato l'area 21 giocatrici in campo e un immenso talento con rispetto parlando per tutte le altre quello di Alei Bugeia che la piazza così dopo essere diventata semplicemente incontenibile, imprendibile in questa ripartenza sembrava che essa...